Il segreto. Puntata di giovedì 4 maggio 2017. Ansie, dubbi e chiacchiere. Anticipazioni, intrighi e tensioni di ogni genere caratterizzano la puntata Il segreto del 4 maggio 2017 rivelano che Alfonso, preoccupato per Emilia, chiede a Ramiro di indagare su Cristobal, che a sua volta cerca di saperne di più sulla morte di Don Julian. Francisca e Severo sono nuovamente ai ferri corti, mentre Camila è sempre più preoccupata per la sparizione di Ernando, che sembra svanito nel nulla. Prima parte. In cerca di informazioni. Come abbiamo capito fin dal momento della sua prima apparizione, la presenza in paese di Cristobal Garrigues non fa che suscitare tensione e disagio. Alfonso Castaneda, vista l'agitazione della moglie Emilia, coinvolta nei piani dell'uomo tramite la squallida arma del ricatto, chiede a suo fratello Ramiro di indagare sul nuovo intendente. Secondo le trame il segreto costui sospetta che Don Julian non sia morto per causa naturale, e continua a fare molte domande a tutti, compreso Don Anselmo. Dove vuole arrivare? Seconda parte. Lo scontro riprende. Divampa più aspro che mai lo scontro tra Severo e Francisca. Dopo che il Santa Cruz ha rotto i rapporti con la Montenegro, rifiutando di continuare ad essere in qualche modo strumentalizzato da lei, la matrona non si spiega il perché del suo comportamento, e cerca di capire le motivazioni del suo comportamento. Per quale motivo Severo ha deciso di non avere più niente a che fare con lei? Severo, in realtà, ha promesso a Candela di rinunciare alla vendetta su Hernando, ma i suoi rapporti con Francisca esulano da questa decisione, forse egli si è semplicemente reso conto che la sua famiglia aveva ragione. Ultima parte. Ansie, dubbi e chiacchiere. Non si hanno ancora notizie di Hernando, e Camila comincia ad essere davvero molto preoccupata. Emilia e Rosario cercano di starle vicino e di darle coraggio. Elias, intanto, chiede alla Valdesalce di trasferirsi all'Os Manantiales per proteggere lei e Beatriz. Camila, però, non è d'accordo. Il mato, poi, continua ad infangare il Dos Casas, anche in presenza di Mattias, quest'ultimo, intanto, soffre per i pettegolezzi messi in giro sul suo conto da Dolores Miranar. La donna insinua infatti che il giovane non sia veramente interessato a Beatriz, ma al suo denaro. Novità per Gracia, rimasta in boutique senza Mariana, partita per Murcia con Nicolas. Fe, la cameriera di Villa Montenegro, le suggerisce di organizzare una sfilata di moda, la moglie di Ippolito accetterà con entusiasmo, ma le due troveranno non pochi ostacoli sulla loro strada, perché, e, soprattutto, per colpa di chi, lo saprete dalle prossime trame della telenovela Il Segreto.